Poco meno di 2.600 euro al mese in media per ogni nucleo. Mai negli ultimi dieci anni le famiglie torinesi avevano speso tanto come nel 2023. L'indagine dell'osservatorio della Camera di Commercio, che ha monitorato i consumi di 240 nuclei in città, conforta al primo impatto, ma certifica in realtà un boom dell'inflazione. Si è speso di più in termini assoluti l'anno scorso, ma il potere d'acquisto è calato per sette famiglie su dieci e solo il 16% è riuscito a risparmiare qualcosa nel 2023, dato più basso degli ultimi cinque anni. Ma quali sono state le priorità delle famiglie torinesi? Nel 2023 è tornata a crescere la spesa in alimenti oltre il 16% del totale, ma le disponibilità di budget sono state consacrate soprattutto all'abitazione, bollette comprese la casa si è presa il 53% delle spese non alimentari. 232 euro la spesa media mensile in utenze per nucleo in aumento, anche se dopo la crisi energetica del 2022 le bollette, dice Camera di Commercio, sembrano stabilizzarsi. Tra le spese voluttuarie in calo quelle per spettacolo e cultura, mentre i pasti fuori casa raggiungono gli 86 euro, l'importo maggiore medio degli ultimi dieci anni. Fatta la tara all'aumento del caro vita sono dati che fotografano abitudini in cambiamento per scelta o costrizione. Dal boom dell'e-commerce il 34% delle famiglie ormai vi ricorre, dato triplicato rispetto al pre-covid, all'aumento di spesa per visite specialistiche e analisi mediche private. Anche se, dice la ricerca, oggi sei coppie con figli su dieci a Torino si collocano in una fascia di difficoltà economica.